ragazzi buonasera a tutti è sempre forza foggia ragazzi terminata che su c ubri ha perso 3 a z e come sto fatto come la squadra che doveva andare in serie b in serie a avete perso 3 al 0 col palè allora non vincite più da quando siamo venuti noi a bari lo state vincendo più ma maledetto perché avete vinto a culo e voi stiamo maledetto perché è così è giusto è così vedi il calcio dà ragione a me che ho detto io che anche con foggia vinto a culo con un episodio hai vinto col foggia hai perso con l'entella e adesso hai perso col palermo sono due partite di fila che perdi carissimo bari semiglio quando hai detto la serie a la serie a dove la serie a fammi vedere dov'è la serie a fammi vedere dov'è la serie a fammi vedere dov'è la serie a ma voglio troppo sto godendo perché così deve essere giusto così perdere perdere è tutto contro vista che ho detto io quando il foggia verrà a bari andrà tutto contro perché l'avete vinto con un fa a favore vostro ne vi so tutto contro vi sta andando e così vinceremo col palermo ma andò è a dire certi che la serie a dove hai perso pure io ho perso ma dov'è tocca andare in serie a dove hai perso stai zitto hai perso e adesso ti disabilito pure i commenti così non puoi commentare te lo prendi nel culo hai perso tu faccio vedere hai perso 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 scappa di lungo pure il foggia per via di persa i cuspezi hai perso col palermo tre a zio come dimmi si a vedere papapam tutti e tre di si buscu da quando me lo so visto io allora al 58esimo al 62esimo di si è preso gol al 69esimo di si è preso gol al 75esimo un terzo gol come dimmi si mamma mamma io sto godendo ma non perché ho vero a persa perché non me ne frega di ma per i bari si che hanno detto la serie a intanto da quando il foggia è venuto a bari non stai vincendo più non stai vincendo più hai perso col l'entella hai perso 3 a 1 col l'entella mo hai perso 3 a 0 con palermo mi ti dà vergogna la serie a dove è la serie a dove la serie a dove la serie a dove la serie a dai ma dei sogni che ti sogna la notte la serie a ma me come godo ma tutti i foggiani mi godono scommetto madonna mia madonna almeno la domenica ha senso perché quando io ho visto la serie a ma sti cunigli ma dove andate i galli galletti dove andate noi siamo satanelli galletti dove andate polli dove andate dove andate in acqua rica dove andate ma dove andate la serie a ma dove andate dove la serie a il foggia ha perso tutto quello che tu hai vinto col buco del culo col foggia e mo ti stanno andando tutto contro 3 a 1 con l'entella e 3 a 0 col palermo infatti stanno dando ragione a me ho detto che ti andrà tutto contro e così sta andando così sta andando quindi un po' qualcosa ne capisco secondo me se sto dicendo così tutto contro vi andrà e vi sta andando contro e io good io good perché così è giusto 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 no ma la serie a la serie a la serie a 3 a 0 cuba l'erba 3 a 1 con l'entella e non vincita quando il foggia è venuto a bar state cheat subisci disabilito commenti così te lo prendi in c***o e non puoi neanche commentare un saluto a tutti è sempre forza foggia i galli 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 gallo come è che faici uccalo 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 ucc a tutti i polli, ciao!